Buonasera e ben ritrovati con i TG Flash di Nuo Sicilia. L'avvocato di Losario Buccheri, il frate arrestato dalla polizia penitenziaria per aver ceduto droga a un detenuto del carcere di Enna, richiesto gli arresti domiciliari. Nel corso dell'interrogatorio si ricorda che il cappellano, detenuto nel carcere di Agrigento, ha provato a chiarire la propria posizione sostenendo di aver dato la droga a un detenuto, ma di averlo fatto solo perché minacciato e costretto di farlo. Una palazzina nel cuore di Palermo rischia di crollare. Il comune ha così disposto la chiusura di un tratto del vicolo Pesa Cannone, che è una piccola traversa della via Caronda. Gli uffici dell'area della pianificazione urbanistica hanno constatato il pericolo e lo stato di usura della palazzina in seguito a un sopralluogo da parte dell'ufficio città storica del comune. A Stromboli, dove l'attuale attività vulcanica, consentita il ritorno del livello di allerta ad arancione a giallo, persiste una situazione di potenziale disequilibrio del vulcano. Il passaggio alla fase di allerta gialla non comporta alcuna modifica nelle restrizioni previste nell'ordinanza del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, circa le escursioni sul vulcano. Persiste il buon tempo in Sicilia, martedì 1 novembre, il sole continuerà a riscaldare le coste siciliane. Non si attendono precipitazioni e le temperature continueranno a mantenersi alte rispetto alla media stagionale. La temperatura più elevata verrà fatta registrare a Catania con massime di 26 gradi. A Caltanissetta, invece, risulterà essere la provincia con i valori termici più bassi, con minime di 12 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.